Ci troviamo qui all'interno dell'ufficio del procuratore Salvi, grazie per averci ospitato oggi, è un'occasione importante per parlare di Catania, per parlare di una città che ha degli aspetti particolari e viene in mente un po' la notizia che di ieri sera che è relativa al rito della luce. Partiamo un po' in maniera diversa, da un ambito un po' diverso rispetto a quello che dovrebbe essere la procura. Il rito della luce è un evento importantissimo, atteso ogni anno dove partecipano migliaia di studenti, proprio ieri i vigili del fuoco hanno deciso di sospendere momentaneamente questo rito per un probabile pericolo di sicurezza. Lei il giorno prima, o comunque nei giorni precedenti, aveva pure recitato alcuni articoli della Costituzione. Ecco, è una metafora tutta catanese dove legalità e illegalità camminano di pari passo? Ah, capisco. No, io la vedrei diversamente perché questa iniziativa è molto bella. Io la conoscevo ed è bella non solo per il fatto in sé che si faccia, ma per tutto il lavoro preparatorio che è quello che insegna ai giovani a lavorare con un'idea, a lavorare insieme, a riconoscere le cose belle, a volerle realizzare. La scuola è stata anche dal rito della luce, è stata anche migliorata perché alcune cose restano anche una volta finito, alcune opere sono opere che non vengono portate via, è stata risistemata, quindi è comunque un'iniziativa molto bella. E io sono andato insieme a tanti altri avvocati e magistrati a leggere alcuni articoli della prima parte della Costituzione. In quell'occasione ho anche visitato all'interno, ho visto le opere, alcune davvero molto belle e molto interessanti e complessivamente tutto era affascinante. però certamente se vi sono dei pericoli per l'incolumità è giusto che vengano rilevati perché è meglio saperlo prima che dopo. Io non la chiamerei illegalità questa perché non è un problema di illegalità, è un problema forse di sottovalutazione delle procedure relative alla sicurezza. A Catania ultimamente, da quando lei è alla guida della Procura, sono venuti fuori anche nomi di imprenditori importanti, ovviamente imputati addirittura per bancarotta fraudolenta, mi viene in mente la questione Harmony, la vicenda Sigenco. Cosa è successo? All'improvviso si è scoperto che ci sono degli imprenditori che agiscono in questa maniera? è una metodologia di lavoro, al di là della presunzione di innocenza per le persone che le hanno nominato, poi si vedrà se ci sono reati, quali sono, noi stiamo facendo delle indagini per capire, però già questo è un fatto importante. È un problema di organizzazione del lavoro. Questo settore era un po' abbandonato perché ci si limitava quando c'era l'informativa del curatore fallimentare a fare il reato. In genere avevamo reati per le bancarotte minori, le bancarotte documentali, quelli che avevano perso i libri contabili, quelli a cui avevano rubati, perché pare che questi libri contabili delle società siano molto appetiti dai ladri, non so perché, non so che cosa se ne facciano, ma improvvisamente vengono rubati, non so se a lei hanno mai rubato i libri contabili, ma pare invece che sia un mercato fiorente. E quindi abbiamo messo su un gruppo di lavoro molto importante, che è il gruppo dei reati contro l'economia, costituito da giovani colleghi, coordinato da una giovane magistrato che è Alessia Natale, e quindi abbiamo iniziato a essere sistematicamente presenti nelle procedure concorsuali, quindi nelle udienze del Tribunale fallimentare. Adesso la legge fallimentare attribuisce al Pubblico Ministero l'iniziativa per proporre l'istanza di fallimento e noi abbiamo quindi iniziato a fare questo lavoro in maniera sistematica. Abbiamo anche scelto una metodologia di indagine molto accurata, abbiamo consulenti di ottimo livello che abbiamo fatto venire da Milano e da Roma, questo costerà un po' dal punto di vista dell'impegno finanziario, però credo che avrà buoni risultati in termini investigativi e anche di recupero di risorse, perché noi stiamo facendo moltissimi sequestri anche in fase preventiva, cioè nella fase in cui la distrazione sta avvenendo, mentre in corso in cui le risorse vengono sottratte alla società, siamo in grado di intervenire. Un esempio di questo ve lo posso dare attraverso uno dei meccanismi tipici delle bancarotte fraudolente, che è quello in cui l'imprenditore, che fino a quel momento è stato un imprenditore che ha lavorato tranquillamente, ha pagato i contributi e tutto quanto, improvvisamente comincia a non pagare più i debiti verso lo Stato. Bene, quella è la spia che sta per avvenire una bancarotta. Quindi noi ci facciamo avvertire prima, non ci facciamo avvertire dopo, quando ormai non si può fare più nulla, quando comincia a essere il segno di uno Stato di decozione, cioè di difficoltà dell'impresa, che spesso, anche se non sempre, è finalizzato a smettere di pagare, accumulare debiti, poi fallire e chi si è visto si è visto. Noi li sequestriamo prima che questo avvenga, utilizzando i reati tributari e quelli in materia di appropriazione dei contributi dei lavoratori, li sequestriamo prima i beni e in questa maniera restituiamo alla collettività i beni che stavano per essere sottratti. Quindi è un modo in un certo senso per prevenire il reato in maniera diversa. Preveniamo e puniamo tutte e due le cose. Invece diciamo che molti sono stati anche i sequestri che sono stati fatti appunto ai patrimoni mafiosi. Però quello che ci si chiede è che c'è una sorta, al solito una sorta di binomio catanese, no? Da una parte una Catania che veramente soffre perché è in crisi, dall'altra questi patrimoni ingenti. Perché succede? Soprattutto che fine fanno questi patrimoni? Guardi, già in passato abbiamo molto noi come Procura della Repubblica posto l'accento su questo fatto. Ne abbiamo parlato anche alla Commissione Antimafia, alla quale abbiamo dato tanto materiale documentale e stiamo aspettando ancora delle risposte. Perché il sistema attualmente della gestione dei beni confiscati non funziona. Io credo perché l'agenzia che ha la maggior parte delle responsabilità nella gestione dei beni non è attrezzata ancora per una logica, a mio parere, piccina del risparmio. Per cui ha pochi mezzi, pochi uomini e assolutamente sottodimensionata e ha di conseguenza una gestione molto attenta più a preservare se stessa dagli errori che a gestire propositivamente questo enorme patrimonio e quindi ha come effetto quello di rendere molto difficile. Perché vede una casa, un immobile può essere abbandonato per qualche anno, si avranno dei danni, ma poi il momento in cui lo si decide di utilizzare si dà una bella ripittura, si cambiano gli infissi e bene o male l'immobile è ancora attivo. Ma un'azienda comincia a morire non una settimana dopo, ma il giorno in cui avviene il sequestro. Quindi bisogna essere pronti da quel momento con gli amministratori nominati dal giudice, quindi queste sono, o dal pubblico ministero, quindi queste sono responsabilità nostre. Ma nel tempo anche con quelli che poi saranno nominati dall'agenzia per assicurare dal primo momento la continuità del lavoro. Nel nostro, sempre nei limiti delle nostre attribuzioni, noi questo lo facciamo per esempio parlando con le banche, facendo in maniera che le banche non riducano o addirittura non taglino improvvisamente il credito all'impresa confiscata, sequestrata. Lo facciamo parlando con i grossi fornitori, quindi assicurando, o meglio con i grossi clienti, possono essere fornitori o acquirenti. E in questa maniera noi cerchiamo di evitare che, come spesso accade, questi vengano portati verso la persona a cui è stato confiscato il bene, che attraverso vari meccanismi se li porta in altre società. Quando noi proviamo questo, come sapete, perché abbiamo fatto arresti e altri sequestri, noi li puniamo, ma noi vogliamo prevenire ancora una volta. Quindi cerchiamo di fare tutta un'attività che consenta all'azienda di essere in vita. Ma c'è un rischio di infiltrazione anche dopo, appunto? Sì, c'è un rischio, c'è una certezza del tentativo di infiltrazione, però noi siamo in grado di saperlo, magari qualche volta prima, qualche volta dopo. Come avete visto, abbiamo arrestato o rinviato a giudizio anche degli amministratori, nominati anche da noi stessi, quindi sappiamo che è un argomento delicato, ma siamo in grado di fronteggiarlo. Non è questa la mia paura, la mia preoccupazione non è questa, perché su questo noi siamo determinati, abbiamo gli strumenti e abbiamo dimostrato di essere in grado di farlo, e cioè di seguire il bene con tutti i tentativi da parte delle organizzazioni mafiose o comunque dei soggetti a cui sono stati levati, di riprendersi in varie maniere. Quindi questo noi lo sappiamo e ci lavoriamo. La mia preoccupazione non è questa, la vera preoccupazione è che queste aziende devono essere fatte funzionare. Allora molte imprese che si basavano sul rapporto mafioso non sono in grado di stare sul mercato e queste vanno chiuse subito, è inutile perderci tempo, perché il danno diventa siliquido. Alimentano dei meccanismi che poi non sono quelli reali. Alcune imprese campano solo per quello. Nel momento in cui per esempio tu gli hai elevato la posizione di privilegio che poniamo nel trasporto su gomma, se il mercato è drogato perché nessuno può rivolgersi a un altro trasportatore, quell'impresa prospera. Nel momento in cui la minaccia mafiosa non c'è più, quell'impresa non è in grado di stare sul mercato, ma è giusto che sia così. Quindi è bene liquidarla subito, si vendono i camion, si fa quello che si fa e si raggiungono. E i lavoratori? E i lavoratori si tuteleranno quelli che devono essere tutelati, quelli che non devono essere tutelati perché anche i loro compromessi non vengono tutelati. Ma ancora una volta non è questo il vero problema. Il vero problema sono quelle società che possono stare sul mercato, che non sono intimamente mafiose, perché sono poche le società intimamente mafiose. Non so se mi spiego. Ci sono società che possono stare sul mercato con qualche aggiustamento. Quelle devono essere sostenute e in questa maniera si sostiene l'occupazione, si consente di dare anche un segnale di punto che la legalità è anche capacità di stare sul mercato. Parlando anche di imprese, di infiltrazioni e di mafia, una questione che comunque è trapelata anche negli organi di stampa che riguarda le white list. Sì. Cioè come si fa a capire se un'impresa è pulita o meno? Abbiamo visto che c'è stato un cognome, diciamo tranquillamente, che è quello degli Ercolano, che compare anche nelle white list. Quindi qual è a questo punto l'atteggiamento? Cosa pensi? Le white list sono un bel problema perché tutti pensano, giustamente perché si chiamano white list, che siano una sorta di certificazione che viene data dopo approfonditi accertamenti che quella società è pulita e può fare. In realtà la white list vuol dire semplicemente che quella società ha la certificazione antimafia, quindi c'è un'iscrizione automatica alle white list e si può negare la certificazione antimafia sulla base di una serie di parametri molto netti. Non è che ci sia molta discrezionalità, anche perché poi se uno viene negato la certificazione alle white list ricorre al TAR e quindi si apre un contenzioso pubblico. Allora è un po' il meccanismo che non funziona, perché scarica sull'amministrazione, soprattutto sull'amministrazione prefettizia, un'aspettativa di controllo proprio ficcante, che magari va dal di là, basta il nome, quello è il fratello e quindi basta, non lavora. Purtroppo, per fortuna non glielo so dire, non è così. C'è una precisa indicazione dei parametri in base ai quali il prefetto può o non può fare questo. Nel caso che li ha citato, per esempio, noi abbiamo comunicato di indagini che prima non potevamo comunicare perché siamo legati dal segreto investigativo che hanno consentito di operare alla prefettura quella valutazione. Quindi le white list, forse, che sono state pensate per agevolare, non come potrebbe uno pensare per rendere più ficcante il controllo antimafioso, sono state fatte per agevolare gli imprenditori che dovevano, prima di poter lavorare, ogni volta chiedere attestazioni e certificati. Adesso, una volta che tu hai la certificazione antimafia, ti iscrivi automaticamente alla white list e poi deve essere il prefetto che sulla base di nuove valutazioni ti può levare. Non so se sono stato chiaro. Io quello che non riesco a capire è, c'è una mancanza di dialogo, quindi per esempio tra procura e prefettura, che cosa è che manca in questo? Non è una mancanza di dialogo, sono proprio parametri, cioè io non posso comunicare alla prefettura che ho un'indagine in corso, non solo perché l'indagine è segreta, ma perché se io la comunico, la prefettura non può non comunicarla all'indagato, perché l'indagato ha diritto poi di fare ricorso giurisdizionale contro quel provvedimento, quindi io non glielo devo comunicare che sto facendo un'indagine riservata. Addirittura potrebbe essere un sistema con il quale viene scoperto l'esistenza di indagini. Quindi è possibile che all'interno di questa white list, per esempio catanese, ci siano degli imprenditori che in realtà sono indagati? In qualunque white list è possibile che questa avvenga, non in quella catanese. In qualunque white list è possibile, succederà dappertutto in tutta Italia, che per un certo periodo di tempo un imprenditore per il quale magari si stanno facendo indagini complesse, antimafia, non venga per quelle ragioni inserito. Poi evidentemente venga inserito e poi magari si scopre che non c'è tutt'altro che white, è black. È black, quindi non c'è niente da meravigliarsi. Si può dire se in questa white list c'è da meravigliarsi. Ma non c'è, come posso dire, anch'io mi meraviglio. Ecco, ma mi meraviglio per un meccanismo che non funziona, perché dà delle aspettative che poi non corrispondono alla situazione reale. Quindi anch'io, insieme all'opinione pubblica, anch'io insomma un poco mi stupisco di questo meccanismo che dà delle patenti di legalità, di lindore, senza che in realtà si possa poi andare a scavare fino in fondo. Grazie a tutti.